Because you too, ex, te saluto, ex. Signore, la porta era aperta. Non me ne frega un cazzo. Che cosa vuoi, bisnonno? Adesso tenga chiusa quella dannata bocca e mi stia a sentire, perché ho capito che tipo è lei. Che cosa vuoi, bisnonno? Lei vuole prendere la strada comoda dell'intervento chirurgico perché ha paura. Che cosa vuoi, bisnonno? Beh, signorina, mi permita di esporle il mio p***o. Ha paura. Bisnonno. E se è troppo difficile? Già, se è troppo difficile. Nella vita le cose che contano non si ottengono mai con facilità. Se è troppo difficile, ci si abitui. Sembrava che il dottor Kelso non stesse parlando solo a lei. Ecco fatto, sono 18 dollari. Oh, ma io non pago. Sono un cazzo amato. Cazzo amato.